di carolina sardelli venerdì 4 maggio 2018 e l'onora pedron sulle pagine del settimanale oggi parla di max biaggi suo compagno per circa 12 anni dal quale ha avuto due bimbi in esangelica nata nel 2009 e leon alexandre nato nel 2010 max è un bravo padre ma spesso assente per lavoro così l'ex miss italia commenta il rapporto del pilota con i suoi figli tra i due la relazione è terminata nel 2015 i bambini si sono abituati all'assenza del padre e forse questo li ha anche agevolati nella nostra separazione perché non vivevano la classica famiglia tradizionale dove il papà la sera c'è sempre e poi per sedare possibili i malumori puntualizza i bimbi hanno un papà che fa il suo dovere nel migliore dei modi vota l'articolo nessun voto potresti essere tu il primo i video del canale donna l'articolo nessun voto potresti essere tu il primo i video del canale non non è un po' di più l'articolo nessun voto potresti essere tu il primo i video del canale non è un po' di più